Allora, come stai Claudione? Come so, fa bene una schifezza, non è facile. Eh, lo so, pure io quando mi sono lasciato non è stato per niente facile, te lo posso garantire. Per niente. Però devi reagire, devi andare avanti, devi sbagarti. No, non ce la faccio, non ce la faccio. Eh, lo so, lo so che non ce la fai. No, però tu devi restirla, mi andi avanti. Cla, mi stai ascoltando? Certo. Ti dicevo, una volta ce ne andiamo io, te e Christian a Trastevere, come i vecchi tempi. Andiamo al localetto quello solito, ci beviamo tutto il locale e poi ci sbagliamo la serata. Oddio! Mamma mia, quanto sei fregno, eh? Mamma mia, se non fossi me stesso che mi farei? Cosa stai urlando? Magari sarà Claudio che sta a fare di tutto per attirare l'attenzione di quella ragazza là. Cosa? È libero quello? Sì. No, è l'attrezzo che ha fatto rumour. Oh, ma quello è l'attrezzo che ha fatto rumour. quella? Chi? Quella? Eh. Ma niente, una, c'ha pure provate. Lei con te? Eh. E beh? Ma non mi piace per niente, Fabrizio, ma vista che roba, che brutte... Chi? I talloni. I talloni? Ma vaffanculo che la... Madonna, qui ancora i lavori stanno a fare. Cazzo che bel paesaggio però, fammi una foto. Qua, al cantiere. Eh, una foto ricordo, dai. Ma ricordo di che? Eh dai, scatta sta foto. Chi è? No dai, c'ho tutti i capelli messi male, dimmelo che c'ho i capelli brutti, su. Eh, sei pieno dei capelli. Scatta Renato. Sì, però respira. Scatta, scatta! Chi è? Mo possiamo andare via, per favore? Scegliere di non esibire il dolore non significa esserne privi. Ma che cazzo sai di? La frase da mettere su Instagram per giustificare la foto. Oh, ciao, core. Adesso inizio il restyling dei miei social. Come sei caduto in basso. Oh, guarda quella. Ma chi è? Il vecchio cane? E tu hai due. E tu hai due.